Il presidente russo Vladimir Putin in queste ore ha accusato gli Stati Uniti di aver coadiuvato l'esercito di Kiev contro Mosca. Il tutto è stato dimostrato grazie a delle intercettazioni di cui i russi sono venuti in possesso. Il conflitto fra l'Ucraina e la Russia non vuole proprio finire ma, a quanto pare, non è solo il paese di Zelensky, a dover fare i conti con la rabbia di Putin. Il premier russo ha infatti convocato il suo entourage, con il quale è arrivato ad una conclusione ben definita. Secondo i politici russi, infatti, l'esercito di Kiev è stato comandato e sostenuto dagli Stati Uniti, fin dal primo momento. Questo ha comportato un alto livello di attenzione nello svolgimento delle azioni militari. Qui non solo sarebbe stata coinvolta l'intelligence americana, ma ogni tipo di operazione portata a termine, dall'esercito militare di Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin ha quindi aditato gli Stati Uniti come colpevoli poi che, per l'appunto, sono stati accusati di combattere una guerra per procura proprio dal governo di Mosca. Ovviamente queste accuse non sono di poco conto, in quanto potrebbero avere un ruolo fondamentale per quanto riguarda futuri risarcimento e per la possibilità di scendere a compromessi e pattuire dei negoziati di pace. Il Cremlino quindi ha dichiarato di essere certo delle proprie affermazioni, a seguito della presenza di alcuni dati che hanno permesso di compiere, delle indagini mirate. Vladimir Putin ha infine ammesso di essere in possesso di alcune intercettazioni, che non possono far altro che supportare la sua tesi. Secondo l'ideologia del primo cittadino russo, infatti, gli americani avrebbero commesso moltissimi omicidi fra i civili ucraini, facendo poi ricadere la colpa sull'esercito della Russia. Per il premier, però, questa non sarebbe la prima volta che l'America si schiera a fianco dell'Ucraina in quanto episodi simili. Si sono già verificati nel 2013 e nel 2014. È proprio in quegli anni, infatti, che abbiamo assistito alla revoca dei contratti in alcuni porti ucraini, per quanto riguarda la presenza delle navi russe, pronte a commercializzare i propri prodotti. Per non parlare poi del grande desiderio di vedere l'Ucraina entrare a far parte dell'Unione Europea e della Nato. Il pensiero di Vladimir Putin appare quindi molto chiaro e sensato anche se, al momento, non sono ancora state rese note le prove, che andrebbero a testimoniare quanto dichiarato dal premier russo. Purtroppo la guerra fra la Russia e l'Ucraina sarà destinata a durare ancora un bel po' e si spera che altri paesi non vengano coinvolti, in quanto il rischio di cadere in un conflitto mondiale è davvero dietro l'angolo. Secondo voi le ipotesi sostenute da Putin sono reali o si tratta di un tentativo di affondare i paesi nemici? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie per la visione!